Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo Two Minutes Ready. Oggi parliamo di Bluntas Wishland di Da Supreme. Ci concentreremo sul suono di chitarra iniziale. Vediamo le note per prima cosa. Allora, le note sono Mi, Si, Mi, Sol, Sol, Si, Re, Sol e poi fa un piccolo accordo arpeggiato. Poi La, Mi, La, Do diesis, Do, Mi, Sol, Si e l'ultimo accordo sempre arpeggiato è Si, Re diesis, Fa diesis. Tutti insieme. A volte c'è qualche variazione perché quando fa la parte sul Sol fa di tanto in tanto, però comunque le note principali sono quelle. Vediamo ora il suono. È chiaramente una chitarra acustica. Andiamo a prendere le nostre chitarre acustiche. Tipo, tipo, da tenere in sottofondo che dà un pochino più di frequenze basse. Aggiungerei però un'altra chitarra molto più altissonante. È tipo... E un'ultima chitarra ancora più altissonante. Potrebbe essere, però un po' troppo cortosa. Ecco tipo questa. Attiviamo tutti e tre i suoni. Aggiungiamo i nostri 200 kg di riverbero a tutti e tre i suoni. Abbassiamo tutti e tre i volumi. E poi le alziamo uno alla volta. Allora, il primo che ci interessa prettamente per le frequenze basse non lo terrei troppo alto. Il secondo un pochino di più. E il terzo più di tutti. Bene, direi che ci siamo avvicinate abbastanza. Grazie mille per aver seguito questo Two Minutes Ready. Io vi ricordo come sempre di consigliarmi il nuovo brano nei commenti, di fare un salto sul mio canale Twitch e di iscrivermi su sidefillproject.com se volete seguire i miei corsi online di produzione mix. A presto! Grazie mille per aver guardato il video.